Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A12, traffico bloccato e tratto chiuso per incidente tra l'allacciamento con l'A15 e Sarzana in direzione Livorno, con chiusura in A15 del nodo A15-A12 in uscita provenendo da Parma. Code anche tra Sarzana e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. In Filippi, per lavori, un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!